Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Parliamo di politica, oggi lo facciamo con un esponente nazionale del partito Fratelli d'Italia, che è Elisabetta Gardini, che ci è venuta a trovare questa mattina. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, intanto siete rimasti praticamente l'unica forza di opposizione al governo, l'unica voce un po' dissidente anche nella gestione delle ultime decisioni politiche relativamente a decisioni che un po' riguardano tutti il Green Pass, diciamo che è sulla bocca di tutti, che dal prossimo 15 di ottobre inaspirà ulteriormente anche l'applicazione, quindi entrando nei luoghi di lavoro e rendendo ancora più stringente, diciamo così, la necessità di avere con sé il Green Pass, il vaccino o il tampone. Questa linea politica l'avete osteggiata fin dall'inizio e adesso quanti spazi ci sono per contrastarla? Perché ormai le decisioni sono abbastanza... Ma io credo che ci sarà un effetto abbastanza dirompente sulla società, per quello che vedo andando in giro anche in questo periodo così di avvicinamento a questa data, che sta creando delle preoccupazioni, delle sofferenze e d'altronde dico io se l'Italia è l'unico paese al mondo ad aver preso una simile decisione, perché siamo l'unico paese al mondo che ha pensato di collegare addirittura il Green Pass al posto di lavoro. Non ci è arrivata neanche la Francia, che è il paese in qualche modo che ha il Green Pass, l'utilizzo del Green Pass più simile a quello nostro, perché lo utilizzano per entrare in ristoranti, per entrare in locali, in mezzi di trasporto, immagino, tipo noi, ma non ha proprio pensato di legare il Green Pass al posto di lavoro. Allora, sono tutti dei pericolosi visionari? Sono tutti dei Novax? Sono tutti dei governi irresponsabili? Non credo, io mi interrogherei su questo. È possibile, ripeto, l'Italia è l'unico paese al mondo ad aver fatto questa bella pensata. E mi sembra, perché qualcuno del governo ha detto siamo gli apripista, ci seguiranno, mi sembra che invece dopo questa dichiarazione, dopo questa enunciazione, noi continuiamo a leggere invece sui giornali di paesi che tolgono le restrizioni, paesi che hanno livelli di vaccinazione a volte anche inferiori al nostro, perché... Perché allora? Cosa sta succedendo effettivamente? Il virus sta sparendo o si sta attenuando? Non è questione, è questione che sembra che questo governo abbia preso da un lato quasi, io dico, questo è il mio livello di idea personale, no? Quasi un certo gusto a vessare, in qualche modo, a controllare gli italiani, a controllare gli italiani e a mettere così un silenziatore ad una opposizione che nel paese, secondo me, si avverte rispetto alle politiche di questo governo, che di fatti ha una maggioranza ancora all'interno dei palazzi, ma stando a tutti i sondaggi... No, parliamo di sondaggi che siamo in momento elettorale. No, 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 ma tutti, sì, ma questa è una cosa, voglio dire, non c'è... No, ma diciamo che c'è purtroppo un'anomalia italiana da questo punto di vista, sappiamo che abbiamo avuto tre governi nati comunque dal Parlamento, quest'ultimo nato direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica, perché non si riusciva più a trovare nemmeno... Però il... E di certo non abbiamo, diciamo, la temperatura del paese, però queste elezioni che arrivano probabilmente... A parte questo, mi faceva una domanda che vorrei rispondere. Ci faranno un segnale. Rispetto, no, rispetto al controllo della pandemia, che voglio dire, questo virus c'è, questo virus è reale, questo virus, ce lo dicono tutti gli scienziati, è anche un po' bastardo, quindi è pericoloso, subdolo, però non possiamo dopo quasi due anni agire ancora come se fossimo all'inizio, quando non sapevamo nulla di questo virus. Oggi moltissime cose si sanno, moltissime cose si sono sapute proprio perché dei medici anche coraggiosi hanno rotto i protocolli, no, perché se no non bisognava, non si sarebbe scoperto il primo paziente di coronavirus in Lombardia, non si sarebbero fatte quelle autopsie che venivano sconsigliate, che ci hanno permesso di capire alcune cose e così via. Ma questo governo sta scaricando le responsabilità, le proprie responsabilità, sui cittadini, perché è possibile che debbano controllare gli imprenditori, i loro lavoratori, che debbano controllare i ristoratori, i loro clienti e invece il governo poi dice, no, noi non possiamo mettere il green pass sugli autobus e sulle metropolitane perché non siamo in grado di controllare. Allora quello che non sa fare il governo lo devono saper fare i cittadini, che con meno autorevolezza e con meno ruolo di quello che invece dovrebbe avere uno Stato. Diciamo che le conseguenze di questa applicazione ancora non le conosciamo, soprattutto sul versante della privacy e della circolazione dei dati che ovviamente sono, ecco lei, la gran parte del problema è legato proprio a questo. Una parte è appunto l'induzione al vaccino, che sembra funzionare peraltro perché ormai siamo vicini all'immunità di gregge e dall'altra parte la questione privacy. Ha detto una cosa importante, cioè la campagna vaccinale in Italia sta andando benissimo perché gli italiani hanno aderito alla campagna vaccinale. Che lo avrebbero fatto senza il green pass secondo lei? Beh, allora secondo lei, quindi hanno, se voglio dire fosse, seguendo il suo ragionamento diciamo che hanno ceduto a un ricatto, io non credo perché credo che le persone che hanno paura, cioè oggi le persone che non si stanno vaccinando sono le persone che hanno paura e hanno paura secondo me proprio perché è stato gestito male fin dall'inizio. Lei pensi le scuole? Noi abbiamo i bambini e i ragazzi che hanno perso più scuola di tutti i loro colleghi europei. Gli amici che vivono in Belgio mi hanno detto che i loro figli hanno perso in tutto complessivamente, nell'anno e mezzo abbondante oramai di pandemia, un mese di scuola. Noi ci troviamo anche quest'anno con le dichiarazioni mai più dad, in presenza, è che ci sono già decine e decine, se non centinaia di classi che hanno chiuso e che sono quindi di nuovo tornati alla DAD. Però non è stato fatto nulla, non si è pensato di preparare le scuole, lo dice anche una persona come Luca Ricolfi, dice questo governo, anche questo governo da cui ci si aspettava molto rispetto al governo precedente Conte, non ha fatto nulla per mettere in sicurezza le scuole e i mezzi di trasporto, non ha potenziato i mezzi di trasporto, non ha moltiplicato gli spazi per le scuole, non fa neanche quella reazione meccanica che ci dicono anche in Europa, è una delle modalità migliori per avere un'aria sanificata. Nemmeno quello lo fa un nostro... Ma perché secondo lei ci sono state queste difficoltà? Perché diciamo, a parte che la gran parte di queste iniziative sono state delegate alle regioni che poi hanno gestito i trasporti e appunto le modalità di accesso alla scuola. Dove è saltato il sistema? A Roma, è saltato a Roma perché dove ha funzionato, se ricordiamo all'inizio, ha funzionato dove appunto non sono stati rotti i protocolli che venivano mandati dal Ministero e dove i governatori hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a gestire, come anche in Veneto, devo dire, la gestione della prima ondata è stata portata ad esempio di una gestione corretta. Però noi abbiamo a Roma persone che non si sono messe a lavorare, non si sono rimboccate le mani, che hanno soltanto dettato delle regole sempre più stringenti, vietato uscire, vietato fare questo, vietato fare quello, chiuse le scuole, chiusi i posti di lavoro. Abbiamo la situazione di fatti economica peggiore di tutti, ma guarda caso anche la situazione sanitaria, abbiamo contato purtroppo il numero più alto di morti. I dati però che il Governo ci fa vedere per il futuro parlano di una ripresa molto rapida nei prossimi mesi, proprio in virtù anche delle possibilità che si aprono attraverso l'immunità di gregge. Lei parla dal punto di vista economico. Economico. Vorrei citare il nostro Presidente Giorgia Meloni che sta ricordando proprio in questi giorni che noi abbiamo avuto l'anno scorso il peggior quarto PIL della storia d'Italia. Gli altri tre che erano stati peggiori di quello dell'anno passato erano durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è evidente che dopo aver fatto un meno nove almeno di PIL, un po' di rimbalzo ci sia. Più sei dicono almeno. Ma più sei, più quattro. Comunque non torniamo nemmeno ai livelli della fase precedente. Abbiamo perso un milione di posti di lavoro, abbiamo 400.000 imprese che hanno chiuso soltanto nel settore dei servizi. Dicono che c'è un 40% di aziende che rischiano la chiusura. Io non lo so tutto questo ottimismo su cosa lo appoggi questo governo. Io sono molto preoccupata devo dirle e devo anche dire che andando in giro incontro molte persone in sofferenza, molte persone preoccupate. Su tutto questo adesso c'è questa data del 15 ottobre che è un'altra mannaia. Lei vada, ma lo farà sicuramente col suo lavoro a incontrare per esempio quelle categorie di fragili, le persone con disabilità. Hanno avuto in questo anno e mezzo una carenza di cure. Hanno fatto dei tali passi indietro che prima di recuperare quello che hanno perduto in quest'anno e mezzo di non vita per loro, che è stato ancora più devastante che per noi, non so se ce la faranno. E sono persone alle quali questo governo non sta pensando assolutamente, non sta pensando per nulla. Poi per contro noi vediamo, quando siamo arrivati a 80.000 clandestini che sono entrati in queste lampedusa scoppia, però su di loro l'obbligo di vaccino e di tampone non c'è, perché addirittura lo usano come arma per non essere rispediti indietro. Se mi permette una considerazione, io ricordo quando, ancora un po' di anni fa, l'Europa diceva che bisognava prendere le impronte digitali alle persone che venivano. C'era il problema appunto della sicurezza legata al terrorismo. Sembrava un'epoca fa, ma adesso dalla planica anni in poi mi sa che riprendereva, scenderà a vigore anche questa... Tanti colleghi di sinistra dicevano che non si poteva obbligare il migrante a rilasciare le sue impronte digitali, perché l'obbligo, obbligarlo a rilasciare le impronte digitali equivaleva a tortura. Ora invece voglio dire... Su questo versante della privacy e della tutela dei dati il Covid ha sfondato parecchie difese insomma che erano state poste e rette nel corso dei decenni a tutela delle persone. E dovremmo quindi interrogarci quanta ideologia ci sia quando ci si opponeva anche soltanto ad avere il registro del nome dei passeggeri, perché non avremmo potuto evitare almeno un paio dei grandi attentati fatti in Europa, se si fosse fatto prima, allora non si poteva nemmeno raccogliere temporaneamente, mettere a disposizione delle forze dell'ordine il registro del nome dei passeggeri che volavano, così c'erano dei coni d'ombra nei quali i terroristi si muovevano. Allora quanta ideologia c'era allora e quanta ce n'è adesso invece? Mi domandavo guardandola e sentendola parlare e vedendo anche quello che Giorgia Meloni sta facendo in questi giorni, quale sarà il futuro secondo lei di Fratelli d'Italia? Perché siete comunque un partito che si candida a essere un partito di governo, ma in questo momento siete la frangia più convinta dell'opposizione, l'unica purtroppo nel senso che non ci sono altre voci, quindi come si coniugheranno questi due volti del movimento? Cioè io lo vedo molto unitario, Fratelli d'Italia. Sì, sì, no, unitario sarà assolutamente, dicevo vi candidate ad essere un partito di governo e quindi di proposta, ma in questo momento siete... Vabbè, ma però vi scusi, è la normale dialettica della democrazia, una volta si sta l'opposizione, una volta si sta il governo... E poi vi troverete al governo come potrete agire, insomma, per riportare tutte le cose in equilibrio, perché sappiamo che dire cosa non va bene è molto facile, poi raddrizzare le cose è molto più difficile. Però sai, se lei va a vedere l'azione di Fratelli d'Italia all'interno delle istituzioni, Fratelli d'Italia sta portando avanti una opposizione molto ragionevole e molto propositiva. Noi diciamo no quando non siamo d'accordo, però quando diciamo no facciamo anche delle controproposte, purtroppo non vengono ascoltate, ma abbiamo avuto il piacere, per esempio, sul discorso del Covid di vedere che molte delle cose che noi dicevamo, che diciamo, sono condivise da persone, da intellettuali, penso alla lettera firmata dai tanti professori, da Cacciari e da Gambem, penso al lavoro della Fondazione Hume di Luca Ricolfi, che non sono certo ascrivibili al retroterra culturale di Fratelli d'Italia, perché ci sono delle cose su cui dovrebbe agire anche un pizzico di buonsenso. E invece è questo che a me preoccupa, vedo delle posizioni che vanno dall'ideologico al comodo, la soluzione più facile. Per cui credo che Fratelli d'Italia, con questa opposizione che sta facendo e con tutte le proposte, le controproposte concrete che fa, abbia praticamente un programma già pronto, a parte il fatto che poi, voglio dire, sarà, sicuramente non sarà, in Italia nessun partito va al governo da solo, quindi sarà in coalizione con gli alleati di sempre del centro-destra, a cominciare da Lega e Forza Italia, che se si arriverà al governo, e io mi auguro al più presto, si arriverà. Quindi secondo lei tutto questo non ha cambiato la forza dell'alleanza? Si è sentito parlare di questa federazione che riguarda un po' più la Lega e Forza Italia, Italia, poi dopo non se ne ha parlato più, anzi in questi giorni proprio Berlusconi ha rimarcato le differenze, portando, rimarcando anche la centralità di Forza Italia rispetto agli alleati. Ma adesso siamo in campagna elettorale, come ha detto lei, quindi si marcano più magari le differenze, è sempre così, è normale, è naturale, succede in tutte le famiglie politiche. Però sommessamente, dico senza entrare nel tema politico e di campagna, che non si può, che comunque noi stiamo governando insieme come alleanza di centro-destra nella maggioranza delle regioni italiane e che nelle grandi città ci presentiamo uniti con un candidato condiviso. Ci sono radici molto profonde, quindi che non si spaccheranno. Radici, ha detto la parola giusta, radici molto profonde. E penso che le radici, lo dicono tutti i commentatori, il popolo italiano è un popolo prevalentemente di centro-destra, perché è un popolo che è molto legato alla famiglia e la famiglia, chi parla di famiglia, chi pensa alla famiglia. Qui poi noi nel nord-est abbiamo avuto addirittura un modello economico che era basato sulla famiglia. Quando sono venuti a studiare il mitico modello nord-est non ci hanno capito molto, perché era in qualche modo un modello economico che corrispondeva alla struttura familiare che è nostra. Noi abbiamo questo senso di appartenenza alla comunità, questa condivisione di valori, che è quello che cementa anche un popolo, una nazione. Noi venuti in particolare lo sappiamo. Anche se siamo la patria dei campanili, diciamo così, questo è sempre stato un limite. Però insomma, redderazione, ma ci si unisce. Ogni medaglia ha due facce, perché da un lato è il nostro limite, dall'altro ci dicono che l'essere molto vicini alla propria identità è quello che poi sviluppa la creatività. E chi è più creativo di noi? Certo, assolutamente. Certo, parlando di economia, adesso le elezioni in Germania, sembra che abbiano anche questo risvolto per il nostro futuro. Sappiamo che la politica è stata europea, è stata condizionata moltissimo dalla cancelliera Merkel e che adesso invece è al minimo storico e che dovrà lasciare il posto all'SPD che dovrebbe cercare di creare un governo, anche se non sarà molto facile. Ma questo potrebbe avere delle ripercussioni sul denaro che dovrebbe arrivare dall'Europa al nostro paese, perché sappiamo che anche la campagna elettorale non è stata molto leggera nei confronti del nostro paese per gli aiuti che dovrebbero arrivare. Alla fine lei è ottimista o no? Io penso che noi dall'Italia abbiamo difficoltà a volte a capire quello che succede negli altri paesi, perché noi siamo abituati che a livello comunale come a livello nazionale quando c'è l'alternanza chi arriva cancella quello che è stato fatto prima. Io questa cosa l'ho capita abbastanza presto a Bruxelles. È venuto un tedesco, collega, mi dice scusa Elisabetta ma in Italia cambia ministro e cambia la linea politica del paese? Per loro è impensabile, però l'abbiamo visto negli Stati Uniti. America First di Trump creava tanto scandalo, poi mi sembra che Biden lo stia praticando al 100% senza nessuno scandalo. Abbiamo visto il confine tra Italia e Francia, è sempre stato gestito, che ci fosse Sarkozy, Orlando, Macron, nello stesso modo rispingimento dei migranti, anche qualche sconfinamento, dubbio dal punto di vista legale del diritto anche internazionale. e io penso che anche sulla Germania ci sia, di là che ci sarà una coda della cancelleria Merkel abbastanza lunga, perché... Piccono mesi davanti. Perché i due partiti, non sono più due i partiti da mettere d'accordo, ma sono tre e i due che dovranno affiancare, se alla fine arriveranno ad un incontro, ad una mediazione, i socialisti hanno delle visioni abbastanza opposte. Sembra che l'unica cosa che li unisca sia una diffidenza verso la Cina, questa forse sarebbe benvenuta se dovesse prevalere nell'accordo. Però io non credo che i tedeschi... Saranno meno tedeschi, perché c'è un'alternanza. Credo che invece sarà salutare per il Partito Democratico Cristiano, CSU e CDU, perché la Merkel li aveva spostati troppo al centro e tant'è che avevano perso molto elettorato verso la destra. E credo che dopo 16 anni di grande coalizione, che oramai aveva scontentato tutti, se i democratici cristiani tedeschi recuperano un po' della loro storia, un po' delle loro vere radici e smettono di compromettersi a sinistra, mi auguro anzi che questa sia una bella lezione per noi italiani e che capiamo che noi dialoghiamo con il nostro Paese e rappresentiamo bene l'elettorato se non ci stravolgiamo per avere magari il plauso di quelli di sinistra. Come dice sempre Giorgia Meloni, se la destra piace alla sinistra, sicuramente non è più destra e non rappresenta più i propri elettori. Posto che bisogna chiarirsi sulle radici di destra della Germania che insomma vanta un passato piuttosto... A parte dei democratici cristiani. Sì, ecco, diciamo, parlavamo dei democratici cristiani. Noi siamo, Giorgia Meloni è Presidente dei Conservatori, quindi voglio dire è una cultura politica che nel mondo è una cultura di governo. per mesi di sovranisti e di alleati sovranisti. Adesso non sono scomparsi i sovranisti? Ma sapevo... Non se ne parla più. È una... perché c'erano i 5 Stelle che erano sovranisti, avevamo visto la giravolta di Di Maio, no? Diceva che sovranismo, meno di 11 mesi fa, 10 mesi fa, diceva che sovranismo era una bella parola che sta in Costituzione, adesso dice basta, finiti i sovranisti. Se andiamo sul linguaggio così superficiale da tweet, allora, se vogliamo fare un discorso invece più approfondito, io credo che il sovranismo sia un modo di etichettare, poi in modo un po' anche superficiale, delle... invece delle tematiche importanti, perché certo, quando diciamo la sovranità appartiene al popolo, voglio dire, allora, se diciamo che ogni popolo ha una sua legittimità, dei suoi diritti come hanno le persone, allora il sovranismo ben venga. Gli ismi non ci piacciono mai, quindi questo è un modo per etichettare, no? che abbiamo una parte politica che invece cerca di portare avanti un discorso che è assolutamente un discorso, diciamo, profondo invece, perché ovvio che l'Italia, l'Italia poi ha maggior ragione il Made in Italy, è il brand legato al paese più forte che ci sia al mondo, e questo è perché siamo italiani, perché abbiamo quella storia di Campanili che ci ha fatto essere il paese della creatività, il paese della bellezza, ed ecco che siamo un po' la culla del pensiero, la culla della cristianità, è il motivo per cui ci amano e ci odiano, è il motivo per cui abbiamo anche tanti nemici, però io tutto questo lo voglio difendere, se perché voglio difendere tutto questo mi dicono che sono sovranista, allora sì, lo sono, però credo che sia molto limitante racchiudere sotto questo ismo una cultura che è non solo politica, ma una cultura di un popolo così importante nella storia dell'Occidente. A proposito di ismi, volevo fare due parole con lei anche sull'ambiente, perché lei se ne è occupata tanto in Europa, nella commissione proprio che decideva quelle che erano le politiche comunitarie in questa direzione. Adesso vediamo che di ambiente si parla tutti i giorni, un po' perché non se ne può fare a meno, perché le catastrofi sono di quotidiano, un po' perché sono ripresi anche i movimenti giovani, un po' perché anche in Germania, anche i verdi hanno ripreso forza, anche elettoralmente parlando. In Italia diciamo che mi sembra che il tema non tocchi moltissimo la politica, cioè il fatto di tutelare il nostro paese, che cade a pezzi a ogni pioggia, non rientra nell'agenda elettorale. No, quello nell'agenda elettorale lo si trova, poi nel passato tante volte purtroppo questa cosa si è scontrata con due cose, una che la prevenzione delle catastrofi, come diceva una commissaria allora con cui lavoravo per la protezione civile, la prevenzione non è sexy, diceva, e quindi quando spendi per la prevenzione magari non hai capito, adesso forse è capito di più. E l'altra cosa è che c'è un ambientalismo che non va d'accordo con l'attività, con la vita dell'uomo, perché l'ambientalismo estremo è un modo per spostare gli interessi. In Europa la commissione ambiente è una commissione tipicamente economica, di tipo economico, perché quando tu legiferi sull'ambiente sposti degli interessi economici giganteschi. Abbiamo visto le tasse sulla plastica e cosa hanno combinato anche nel nostro paese. Sì, però ecco, lei tocca un esempio importante. Le dico, in quelle battaglie sulla plastica i verdi tedeschi, che adesso hanno avuto così tanto successo, che sono molto diversi dai nostri verdi, votarono contro la plastica biodegradabile perché la plastica biodegradabile era italiana e non era tedesca. Quindi i verdi votarono contro la plastica, i verdi tedeschi votarono contro la plastica biodegradabile. Mentre invece l'abolizione di alcune tipologie di plastiche monouso, che sono state abolite dall'Unione Europea, sono delle plastiche, come i bicchieri, le stoviglie, sono una cosa italiana. E quindi hanno votato per abolire quelle plastiche che danneggiavano poi economicamente l'Italia. Non sono andati ad abolire le bottiglie, quelle cose. Sono scelte economiche. Noi produciamo... Sappiamo che la svolta delle imprese passa attraverso la sfida ambientalista, la sostenibilità, e probabilmente anche i fondi del PNNR... Però, che lei capisce, non c'è la scelta buona e la scelta cattiva in assoluto. Non si può fare i furbetti, dire sono ambientalista perché condanno le aziende italiane che producono il 50% di piatti, stoviglie, bicchieri monouso, che vengono usati in tutta Europa, così il prezzo dell'ambientalismo di Bruxelles lo pagano gli italiani. Questo non va bene perché l'Europa deve trovare un equilibrio, deve far sì che i sacrifici siano condivisi e divisi in modo equo e che anche le cose positive vengano, arrivino, distribuite a tutti. E invece, così non è. In questo gioco di forza dove Francia e Germania in questo asse ha, in qualche modo, sovrastato gli altri paesi, spesso capitava che una decisione che veniva venduta come buona favorisse troppo alcuni e penalizzasse troppo altri. Il Covid, l'Afghanistan, il Brexit, la rivoluzione che è accaduta intorno all'Europa cambierà qualcosa? Cambierà l'assetto dell'Europa? Arriverà un esercito europeo? Arriverà una maggiore solidarietà tra paesi? O diciamo che l'asse franco-tedesco continuerà a reggere il mondo europeo? Guardi, io credo che noi dovremmo sederci intorno a un tavolo e ripensare alcune cose. Questo che chiedi, io mi ricordo, io ero lì, c'erano ancora gli inglesi dentro, i britannici, e dicevano proprio questo. Non fate che questo problema sia un problema tra Regno Unito e Unione Europea, perché i problemi li vivete in tanti paesi dell'Europa. Mettiamoci intorno a un tavolo e cambiamo quello che è da cambiare. Io credo che dovremmo ricominciare da una costituzione europea dove riconoscere intanto le nostre radici, perché un continente privo di identità non ha la possibilità di vivere. Le nostre radici greco-romane, giudaico-cristiane le vogliamo considerare o continuiamo ad essere un paese che non ha un'identità e che quindi è aperto? Da lì dobbiamo ripartire perché dobbiamo sapere chi siamo se riconoscere la nostra storia, i nostri errori, perché l'Europa ne ha fatti tanti indubbiamente, non devono essere la scusa per azzerare quella che è la civiltà che ha comunque portato avanti il discorso dei diritti umani, che ha portato avanti tutto un discorso di progresso e di prosperità per le proprie genti. L'Europa che pensavano i padri fondatori era un'Europa di pace e prosperità. Mi sembra che stiano mancando tutte e due. Forse sedersi intorno a un tavolo e ripensare veramente che Europa vogliamo perché anche avere un esercito se non c'è una politica estera comune, io vorrei capire come si possa fare. Draghi come Presidente della Repubblica o di nuovo con un incarico europeo che magari potrebbe favorire la nascita di una nuova Europa? Ma sa, voglio dire non noi non ci permettiamo di scrivere la storia di Draghi che riconosciamo essere una personalità forse la personalità più forte che oggi abbiamo più riconosciuta a livello internazionale non bisognerà chiedere a lui intanto che cosa voglia fare noi quello che vorremmo è restituire comunque all'Italia un percorso democratico perché sento alcuni di sinistra che sapendo che difficilmente vinceranno le elezioni e potranno governare con un esito futuro diciamo così Draghi per sempre non solo fino al 2023 ma anche per altri cinque anni io penso che la sospensione della democrazia deve finire dobbiamo tornare a dare la parola abbiamo finito anche il tempo a nostra disposizione e io ringrazio Elisabetta Gardini di essere stata con noi oggi vedremo appunto come procederà anche questa campagna elettorale noi ci rivediamo anche in cronaca in questi giorni ovviamente all'interno delle nostre edizioni dei notiziari grazie ancora e buona giornata a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti Autore dei sorrisi